L'operazione è consistita in una serie di perquisizioni e due arresti effettuati già dalle prime ore della mattina, in contemporanea da un grande numero di militari per l'esigenza di evitare la comunicazione fra i vari indagati e quindi c'è stato dietro un coordinamento al fine di procedere a tutte le perquisizioni nello stesso momento. Parliamo di un reato di tipo associativo finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura e riteniamo che questo tipo di gruppo di persone non fossero soltanto singoli ma un gruppo che presentava pur nella sua dimensione locale tutti i caratteri tipici delle associazioni organizzate, in quanto avevano una organizzazione gerarchica, una strutturazione dei compiti ben definita, avevano capacità di intimidire anche in caso di debiti non pagati da clienti, hanno disponibilità di mezzi e addirittura delle strategie diciamo così comunicative in quanto facevano sì che fossero pusher della stessa fascia d'età a gestire clienti della stessa fascia, quindi il ventenne aveva più facilità a parlare con il suo coetaneo ovviamente, questo anche per favorire l'affezione del cliente. Dopodiché devo dire che l'operazione è stata anche da parte, dal punto di vista dell'arma, rimarchevole in quanto origina completamente dal comando stazione Carabinieri di Montecchio di Vallefoglia che è un comando della nostra organizzazione territoriale e quindi non è un reparto deputato unicamente a finalità investigative ma anzi condivide con gli altri comandi, le altre strutture sul territorio tantissimi tipi di compiti anche amministrativi, quindi quest'indagine che è durata più di un anno nasce proprio da l'intuito dei singoli Carabinieri sul territorio, un pregiudicato notato un giorno molto lontano dalla zona d'origine, una persona fermata due giorni dopo con dello stupefacente anche se in modica quantità, tutti elementi che hanno diciamo stratificato queste osservazioni e contribuito a creare il sospetto che qualcosa di poco chiaro stesse andando, si stesse perpetrando. Questo è possibile proprio grazie alla capillare distribuzione dei comandi dell'arma dei Carabinieri sul territorio e quindi anche nelle piccole realtà abbiamo questa capacità penetrativa e repressiva contro la criminalità anche di tipo organizzato. Chiaramente poi il modello arma è che dal piccolo poi arriva al supporto delle strutture più grandi in quanto sono stati messi a disposizione 30, circa 30 militari più Carabinieri cinofili per poi la fase finale e conclusiva dell'operazione. Ma del resto questo si era già visto nel territorio proprio di Vallefoglia nei mesi pregressi con l'utilizzo delle SIO, le squadre di intervento operativo che hanno coadiuvato i militari del posto proprio nell'attività preventiva dei reati e quindi anche in occasione del mercato piuttosto che delle giornate del weekend e soprattutto nel periodo estivo questo tipo di controlli hanno contribuito al mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica, della prevenzione della commissione di reati. Per finire commissione di reati che devo dire sta dando dei risultati soddisfacenti in quanto ci sono stati diversi episodi purtroppo di cronaca locale ma abbiamo avuto praticamente in tutti i casi sia che si trattasse di maltrattamenti, risse che hanno trovato diciamo risalto sulle pagine dei quotidiani e altri tipi di reati hanno sempre trovato uno sbocco investigativo che ha consentito di arrivare all'individuazione dei colpevoli. Grazie.